Ecco, ha avviato questa nuova collaborazione con Radio Like? Sì, attraverso il mio amico Beppe Pazzini è questa collaborazione che io dico mio onore, mi fa piacere essere a Radio Like, più gente raggiungo meglio è. Quindi a mezzogiorno è uno spazio molto divertente? A mezzogiorno, tutti i giorni della settimana, a mezzogiorno c'è l'angolo del Morot, una barzelletta che verrà replicata e così, ci saranno barzellette e ci sarà da divertirsi. L'importante, io come dico sempre, non risolvo i problemi, li alleggerisco e la barzelletta è la cosa più semplice che c'è. Questo che periodo è per lei? È un periodo un po' particolare perché anch'io, io sono uno che fa molte serate così e non si può andare in giro. È un periodo che dobbiamo stare, rispettare le regole e ne usciremo fuori. Speriamo, speriamo che finisca presto, sia per un discorso sanitario, sia per un discorso anche di poter vivere la nostra vita normalmente. Nel frattempo sta lavorando sul repertorio? Eh sì, no, il repertorio è sempre in fermento. Adesso stanno sulle mie pagine Facebook i barzellette e il Morot o gli amici a cui piace i barzellette e il Morot, stanno girando video vecchi, cioè barzellette vecchi con video nuovi, però arriveranno, ci saranno sempre delle novità. Allora io vi invito a seguire sempre Radio Like a mezzogiorno, c'è lo spazio da mezzogiorno a mezzogiorno 5 con la mia barzelletta dal lunedì al venerdì e vi aspetto numerosi e saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Like.